mister richard che stai facendo che stai combinando drc regolando la correzione della stanza soprattutto perché l'ambiente non simmetrico e quindi stiamo regolando la scena oltre il controllo dei bassi perché abbiamo due fufer da 38 cm una stanza di questo genere importante ottimo che ti osservo e mi limito ad osservarti e poi le misure le abbiamo fatte le misure iniziali hanno soprattutto una zona molto frammentata nei primi 100 hertz con questa possibilità di correzione che è iniziale invece stiamo riportando la parte delle frequenze più basse ci abbiamo ancora delle irregolarità queste irregolarità vengono dal fatto che vedete questi impulsi queste sono delle inversioni di fase tra rispetto ai due diffusori destro e sinistro che per me che non dovuti all'ambiente quindi si autocancellano fra di loro su un ambiente non simmetrico per poter fare una correzione dobbiamo agire sulla fase di uno dei due solo la correzione digitale dell'impulso riesce a fare una cosa di questo genere riportiamo la fase in quella frequenza uguale e abbiamo ricentrato la scena eliminando le auto cancellazioni fra di loro se si sentirà quello che detto sarà un miracolo perché c'è il volume che c'era in sala era mostruoso dunque